Al Santa Maria Cilento non basta il cuore, l'orgoglio e una buona prestazione per circa un'ora di gioco per portare a casa almeno un punto nel match casalingo contro la Fidelisandria. La formazione pugliese del tecnico Scaringella resta sorpresa dall'ottimo avvio dei giallorossi cilentani che mettono alle corde la difesa del team pugliese, ma la beffa per la squadra di Esposito arriva al tramonto della prima frazione. Una punizione viene capitalizzata in modo vincente da Giambuzzi che di testa batte Spina, un episodio che arriva oltre il minuto di recupero scatenando le proteste dei padroni di casa. Nella ripresa Santa Maria parte con il piede sull'acceleratore e dopo due giri di lancette capita Brugaletta all'occasione del pareggio, ma il difensore spreca in malomodo. La spinta dei padroni di casa si esaurisce al minuto 29 quando l'Andria, nel momento migliore dei giallorossi di Castellabate, piazza la rete del raddoppio con Giambuzzi. Il Santa Maria esce di scena e arriva anche il tris per i pugliesi al 43esimo quando a segnare è Bottalico. Risultato bugiardo, commenta mister Esposito alla fine del match. Non ci resta che ripartire da questa buona prestazione.